Buongiorno a tutti, bene, inauguriamo la nuova webcam, si dovrebbe vedere un filo meglio, con un tip molto semplice ma anche estremamente utile perché ti permette di fare una cosa che bisogna fare sempre su qualsiasi sito web che volete gestire, ossia come creare una sitemap e come caricarla su Search Console. Innanzitutto diciamo che ci sono varie estensioni che ti permettono di caricare sitemap, ce ne sono alcune a pagamento, alcune gratuite, tra quelle a pagamento J-Sitemap di J-Extension Store è la migliore in assoluto, la consiglio sempre e comunque perché oltre a creare la sitemap ti permette di fare una marea di cose in più che riguardano la SEO, la gestione del vostro sito, la gestione dei vostri URL, insomma se avete un sito professionale e volete gestirlo come si deve ecco quella è l'espressione che fa per voi. Se invece cercate un'estensione gratuite molto più semplice ma che comunque va benissimo per gestire un sito piccolino quindi magari un blog o un sito vetrino eccetera, l'estensione che vi consiglio si chiama OS Sitemap che è gratuita e vi permette di creare una sitemap in pochissimi minuti. Andiamo adesso a vedere come fare, quindi cerchiamo proprio brutalmente su Google Joomla OS Sitemap, il primo sito è ovviamente quello della Joomla Extension Directory quindi della GED, il secondo è il sito ufficiale. Andiamo direttamente sul secondo link e andiamo a scaricare la nostra estensione. Allora per scaricarla non è necessario registrarsi però è necessario dare un indirizzo mail che cosa vuol dire che voi potete andare in fondo in fondo, andare sulla versione free, inserire il vostro indirizzo mail, vi arriverà un link dove poter scaricare direttamente l'estensione. Ecco qua, noi l'abbiamo scaricata, infatti la troviamo direttamente qua nella cartella dei download, l'abbiamo scaricata cliccando sul link che ci è arrivato via mail, quindi andiamo in sistema e la installiamo con una normalissima estensione, quindi installa, prendiamo il nostro file e lo trasciniamo qua sopra e attendiamo che finisca di installare. Verrà installata sia l'estensione vera e propria sia un pacchetto di librerie, verrà installato comunque tutto in automatico e non ci sarà bisogno di fare nulla, semplicemente contiene più pacchetti diciamo, l'installazione di OS Map. Ecco qua, tutto è stato installato correttamente, quindi noi adesso possiamo andare in componenti OS Map Free e vedere che già in automatico è presente la default sitemap. Se noi ci clicchiamo sopra possiamo dire quale dei nostri menu integrare all'interno della sitemap. Possiamo scegliere per esempio un menu sì o un menu no. Questo perché? Perché magari noi abbiamo un main menu che c'è tutto quello che ci interessa e un menu nascosto dove magari ci sono dei link solo per gli abbonati o di utenti registrati, quindi dei link che Google non interessano, quindi noi non glieli mandiamo, gli mandiamo solo i link che possono interessare a Google che quindi ci interessano che siano indicizzati. In questo caso io scelgo solo il main menu, clicco su salve e chiudi ed ecco che in realtà il più è fatto. Quello che ci interessa a noi è l'indirizzo XML perché la search console di Google prende in pasto l'XML della sitemap. Quindi io clicco su XML, mi apre una nuova finestra dove mi fa vedere tutto il contenuto del mio sito. Attenzione, se avete delle pagine blog tipo quello che io ho creato con, aumentiamo un po' lo zoom, qua, slash film, lui prenderà non solo la pagina del blog ma anche ovviamente tutti gli articoli all'interno del blog, quindi non dovete stare a mettere ogni singolo articolo nel vostro menu. Viene preso tutto in modo ricorsivo e automatico in base alle voci di menu. Quindi se avete una categoria blog con 100 articoli, qui dentro nella vostra sitemap XML ci sarà la pagina blog più tutti i 100 articoli. Quindi da quel punto di vista viene fatto tutto assolutamente in automatico. Molto bene, quello che ci interessa è l'URL, è questo qua in alto. Questo qui noi dobbiamo andarlo a dare in pasto alla search console. Come si fa? Molto semplice. Apriamo la Google Search Console e facciamo login sulla nostra proprietà. Eccoci qua. Allora, se avete già una proprietà search console sapete già più o meno di che cosa si tratta e come funziona. Se non ce l'avete, molto semplicemente con il vostro account Google, che può essere un account Gmail qualsiasi, oppure un account aziendale che viene gestita da Google stesso, potete creare una proprietà. Che cos'è una proprietà? È semplicemente il modo che avete per dire a Google guarda che quel sito web è mio. Quindi Google dovrà innanzitutto capire che sia effettivamente vostro quel sito. Come fa? Facendovi caricare per esempio un file nella root del sito VFTP oppure, molto meglio, in realtà andando a modificare i DNS del vostro dominio. In questo modo qui voi potete certificare la proprietà del dominio, quindi pixel.it, oppure anche andare a certificare la proprietà di una semplice parte o un sottodominio, per esempio il www.pixel.it oppure qualcosa.pixel.it. Però diciamo che se tramite DNS voi verificate tutto il dominio, a questo punto siete a posto. Bene, molto semplice. Una volta che avete verificato il vostro dominio e che la vostra search console è attiva, sulla sinistra avete il pulsante sitemap. Ci cliccate e qui ecco che lui vi dice inserisci l'URL della sitemap. Molto semplicemente l'URL è questo qua. In questo caso è localhost, joomla4, eccetera, eccetera. Se l'avete installato su un sito online sarà su www.pipo.it slash component slash osmap eccetera, eccetera. Quindi copiate tutto quanto, lo incollate e cliccate su invia. Una volta cliccato su invia verrà qua fuori nella lista delle sitemap inviate e quindi Google avrà un punto di riferimento di quali sono le vostre pagine, i vostri contenuti per partire e velocizzare l'indicizzazione del vostro sito web. Se avete domande scrivete pure nei commenti. A presto!